Scarlett è un'inguaribile romantica che sogna per la propria vita un finale da film. Trascorre le sue serate guardando i film con Brad Pitt e Hugh Grant, sperando in un amore da Notting Hill. E quando tutto sembra riportarla alla vita reale, ha finalmente la possibilità di vivere il suo sogno. Cosa sceglierà tra sogno e realtà? Dall'autrice di Colazione da Darsi, Innamorarsi a Notting Hill, la nuova commovente e originale commedia di Ali McNamara. Newton Compton Editori.